ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi parliamo di forza motorsport 7 sì finalmente ho provato forza motorsport 7 in due modalità demo pc e xbox perché perché non potevo basarmi soltanto su una semplice demo per poter poi andare magari a massacrare un gioco quando non se lo merita quindi per essere il più giusto possibile sono andato con un amico mio ci ho passato due giorni interi poveretto per testare questo benetto forza motorsport 7 e vorrei dare le mie impressioni su tre o quattro cose non posso andare nel dettaglio ragazzi di come è strutturato il gioco potete andare a vederlo sul web tranquillamente leggere le recensioni tutte le caratteristiche qui parlerò solo delle mie impressioni ragazzi perché sennò il video dura 50 anni e poi non lo guardate quindi secondo il mio modestissimo parere penso che forza motorsport 7 non è che venga innovare completamente i capitoli precedenti anzi viene a inglobare tutto quello che è stata l'esperienza accumulata sino adesso è migliorata la prima cosa di cui voglio parlare sicuramente la fisica non vado nel dettaglio però c'è un buon trasferimento di carico buona sensazione al volante un po meno rispetto a altri titoli però un buona sensazione volante soprattutto una fisica ottimizzata per avere il massimo delle sensazioni con il gamepad perché veramente con il gamepad si hanno tutte le sensazioni a portata di mano si sente quando c'è la mancanza di trazioni si sentono le vibrazioni dello spostamento laterale trasferimento di carico onestamente si vede che è un gioco nato per console però su pc si comporta abbastanza bene il che però siccome gli mancano quei dettagli particolari per riprodurre fedelmente quello che dovrebbe succedere in pista perché e qui vi lascio andare a scoprirlo se avete modo di poterlo testare vedrete che in pista si si sente bene quello che succede però non è implacabile come sarebbe nella realtà infatti la sola funzione rewind vi fa capire la direzione che torna sempre preso quello di offrire un gioco divertente e non stressante il che è comprensibile e secondo me con questo capitolo 7 ci sono veramente riuscite perché comunque il gioco è molto molto divertente il che allunga la longevità del titolo quindi bravi a tor 10 e mi sento di dire però che se cercate un simulatore non è per voi perché è un simcade non c'è altro da dire qua possiamo posizionarlo come simcade e se non mi credete andate a vedere le testate giornalistiche che si occupano del del settore gaming vedrete che tutti lo dicono perché perché così quindi e lo penso anch'io per la mia piccola esperienza che mi sono fatto in questi giorni con forza motorsport 7 il che però non lo esclude da essere un grandissimo titolo è un titolo che trova sicuramente il posto nelle vostre bacheche dove tenete i vostri gold disc dei vostri migliori giochi perché ne vale veramente la pena che sia per pc che per console ovviamente bisogna situarlo come un gioco simcade e non simulatore è bene precisarlo per quanto riguarda il comparto grafico ragazzi osagniamo tor 10 che non solo riesce a far girare in 4k a 60 frame per secondo con dei dettagli pazzeschi che sia sia in termini di auto che in termini di circuiti ma lo fa fare anche a console più vecchie cioè la x non è neanche uscita ancora che questo che la la s mi pare che la s che aveva si riesce comunque a gestire i 60 frame per secondo con un 4k mostruoso è una fluidità ragazzi che micidiale pc di ultima generazione lo fanno girare tranquillamente io ho una 10 e 70 montata su nessun problema quindi a livello grafico bravissimi non c'è nulla da dire è fantastico uno ne prende piene gli occhi di questa grafica superfluida è fatta molto bene poi ovviamente non ho visto non ho avuto il tempo di studiare tutto e vedere se ci sono dei difetti da quello che ho visto cioè è veramente impressionante una cosa che mi ha colpito è sicuramente il meteo dinamico che poi chiamarlo dinamico forse troppo perché cambia in base a quello che si è preimpostato però il cambiamento in pista di quello che succede al primo giro e quello che succederà al secondo giro e questa transizione è fatta veramente bene e poi quello che mi ha impressionato che veramente quando piove quando c'è la situazione di brutto tempo sembra veramente di esserci ragazzi hanno fatto qualcosa di fenomenale cioè il meteo quando piove cioè veramente fatto bene quindi quindi molto bello raga non c'è nulla da aggiungere un altro comparto che è importante parlare per quanto riguarda il coinvolgimento nel gioco è sicuramente l'audio e l'audio turn è sempre stata forte nell'audio perché perché la campionatura è sempre stata all'altezza anche dei rivali più blasonati e c'è solo una cosa che vi voglio far sentire e ditemi se pensate come me questo l'unica cosa che ho trovato nella demo pc e sull'xbox è stato quello quindi ma è una sbavatura che il resto della campionatura è spettacolare quindi già questi tre comparti fisica simcade che rende molto bene grafica mozzafiato comparto audio del tutto di tutto rispetto ne fa un gioco appunto come dicevo che deve stare sui vostri nella vostra libreria e vi darà sicuramente tante ore di gioco appassionanti e divertenti ragazzi non vado a non non vi dico la carriera che è fatta di sei campionati grosso modo di sei campionati che guadagnate dei credit in game che potete aprire delle scatole con delle mode che vi fanno modifichere le auto che avete 700 auto tantissime modalità e tantissime classi di auto non sto qui a parlarvene perché basta andare a leggere le caratteristiche del gioco è inutile che vi sto a dire come come non è vi parlo della mia esperienza vi dico che è un gioco davvero divertente che però deve essere situato bene non è un simulatore ma è un ottimo simcade e io personalmente se ricercate questo è puro divertimento mi sento di consigliarvelo se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su lasciate un commento qui sotto e come al solito se non l'avete fatto iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video da famosa ciao